In questa puntata, approvata la delibera di integrazione al documento di economia e finanza regionale 2021, incarichi in regione, approvata la norma per il rispetto dell'Equoterosa, rievocazioni storiche, una legge per valorizzare il patrimonio toscano, celebrazioni dantesche 190 e comuni coinvolti. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con i voti favorevoli di PD e di Italia Vive, quelli contrari di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, la proposta di delibera di integrazione alla nota di aggiornamento al DEFRE 2021, la proposta di legge che contiene gli interventi normativi collegati alla prima variazione di bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 e la proposta di legge per la prima variazione al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023. In tempi molto rapidi è arrivata la variazione di bilancio. Il Consiglio regionale e le Commissioni in pochi giorni hanno dovuto affrontare la più importante misura finanziaria dall'inizio dell'anno ad oggi, una misura che prevede dal punto di vista della spesa una compartecipazione imponente della Regione Toscana al cofinanziamento in vista della nuova programmazione comunitaria relativa appunto ai fondi FEASR, FEAS e FSE. Si tratta di misure importanti da questo punto di vista che ci preparano al nuovo ciclo di programmazione e che si affiancano a una serie di interventi puntuali che cercano di essere la risposta che la Regione Toscana dà in questo momento dell'anno alla crisi economica e sociale che è nata dalla pandemia, andando ad intercettare quelle categorie e quei contesti nei quali è diventato più stringente la necessità di un sostegno pubblico, in particolar modo dal settore della cultura alla scuola fino ad arrivare alle attività economiche e commerciali e anche ai complessi fieristici. Si tratta infatti di misure che valgono a dare un sostegno effettivo a coloro che operano in questi settori. Dall'altra parte c'è anche però l'esigenza di intervenire con adeguate misure, con validi strumenti su un settore altrettanto delicato e strategico del territorio regionale che è quello della viabilità pubblica attraverso una serie di misure di sostegno che vanno ai territori, agli enti locali soprattutto con misure imponenti che riguardano il Comune di Firenze, la provincia di Pistoia e Pisa. Il commento io credo che debba essere rivolto più che alla Commissione a Bugliani e alla Giunta. Non è possibile che questo materiale così importante, così delicato, che ha bisogno di un approfondimento sul territorio e anche tecnico arrivi in fondo e ci si chieda di essere portato in aula cinque giorni dopo. Noi abbiamo vissuto questa settimana fitta di consigli, avevamo nel Consiglio che si è chiuso pochi giorni fa 21 atti all'ordine del giorno tra proposte di legge e proposte di risoluzioni. Quindi ci è stato di fatto impedito come consiglieri di poter approfondire e quindi fare il nostro lavoro. Questo per noi è inaccettabile. Abbiamo già chiesto alla Capigruppo che non si ripeta più, però ovviamente bisogna rimarcare il fatto che non siamo stati messi in condizione di svolgere le nostre funzioni, quelle dell'opposizione, quelle dell'approfondimento, quelle anche di poter proporre qualcosa di alternativo. Perché per farlo abbiamo bisogno di tempo. Il tempo non ci è stato dato e questo è un problema grossissimo di programmazione che ha questa giunta. Speriamo che non si verifichi più perché credo che una buona maggioranza funziona anche se c'è un'ottima opposizione. E l'opposizione loro non la mettono in grado di poter lavorare. Allora, in realtà, più che negativa, è quasi impossibile da valutare come notte di aggiornamento perché ci è arrivato due giorni fa con la preghiera di licenziarlo entro la pausa estiva dei lavori per motivi di massima urgenza. Questo ovviamente una volta lo puoi concedere, basta che non diventi prassi, però diciamo che è stato quasi impossibile capire cosa c'è all'interno di questa nostra aggiornamento. Da quel poco che abbiamo visto, parole al vento e anche malfatte. Faccio un esempio su tutti. L'aspetto sanitario, che insomma non credo che purtroppo sia ancora un aspetto secondario né in Toscana né altrove. Sulla sanità, se uno legge la nota di aggiornamento al documento economico e finanziario della Regione Toscana, la nota inizia dicendo che nei primi mesi del 2021 la Toscana inizierà un piano vaccinale contro il Covid-19. Cioè è aggiornato a un anno fa. Quindi questo è quello che ci viene proposto di votare in aula. Convintamente contrari perché innanzitutto ci è stata buttata letteralmente addosso proprio a breve distanza dal documento regionale di finanza e da molti altri atti corposi. Chiaro che è stato fatto per non darci la possibilità di analizzarlo, ma in realtà guardandolo con un occhio un poco più attento ci siamo accorti che sono soltanto dei piccoli interventi localistici probabilmente per esigenze che ben poco hanno a che vedere col più ampio respiro che una variazione di bilancio dovrebbe avere. Per esempio ci aspettavamo di più per i PETS, i programmi educativi zonali, ci aspettavamo più per altri settori, invece ci siamo accorti che è stata una manovra semplicemente con altri scopi, ma senza niente di rilievo, addirittura con delle erogazioni ulteriori, straordinarie, in realtà ordinarie, perché avvengono ogni anno alla Fondazione Alinari, al Festival Pucciniano e assolutamente fuori luogo secondo me in momenti emergenziali come questo. È una soluzione assolutamente negativa. Guardate, lì dentro, dentro il documento economico e finanziario della Regione Toscana e nelle due proposte di legge che parlano della variazione di bilancio non c'è niente che ci porti a votare a favore, non ci sono misure di sostegno alle nostre imprese, alle nostre famiglie, non ci sono misure di sviluppo del nostro territorio, non c'è programmazione, non c'è una visione della Regione Toscana. È una legge mancia. Le parole hanno un peso e le leggi devono essere chiamate come sono. Ci sono soltanto delle piccole mancettine ad associazioni culturali. Pensate che il 3% di quel documento lì è destinato alla valorizzazione, alla promozione delle associazioni culturali, che per noi la cultura vale, sì è importante, ma vale 5,3 miliardi del PIL della Regione Toscana. Mentre per le imprese, per il sostegno all'export, per il commercio, per il turismo, per tutte le misure che riguardano le nostre imprese, che nella nostra Regione, nel nostro PIL vale 143 miliardi. Il bilancio è importante, abbiamo fatto bene a forzare, per approvare entro la pausa estiva il bilancio di previsione e le relative variazioni e defre. Era doveroso, perché i comuni aspettano risorsi della Regione, le imprese li aspettano, le infrastrutture, l'agricoltura, la montagna. Tanti investimenti, penso alla disabilità, penso alla viabilità, penso a tante questioni importanti. Il bilancio è la cosa più importante, altre discussioni possono attendere, anche dopo l'estate. Adesso aver chiesto la candidarizzazione e la versione di bilancio, secondo me è stato positivo e noi sosterremo convintamente questa variazione, che ha trovato risorse importanti in tanti settori, anche richieste che noi avevamo fatto. Penso all'agricoltura, penso al sociale, penso ai tartufai, penso alle viabilità, a questioni di carattere formativo, scolastico delle università. Approvata una legge regionale per la parità tra uomini e donne negli incarichi regionali. Era un impegno che ho preso non appena eletto presidente del Consiglio regionale. Lo dico ai cittadini che ci seguono. Oggi c'era una norma, quella sulle nomine, che diceva che si dovevano presentare due nomi, un nome di uomo e un nome di donna, per qualunque nomina, ma poi alla fine il Consiglio regionale poteva scegliere di nominare persone tutte dello stesso sesso. Con questa modifica che ho condiviso anche con un emendamento che ho presentato con la Commissione Pari Opportunità, io dico che ci deve essere parità di genere, non parità di presentazione delle domande, ma parità di genere. Questo vuol dire che se è un numero pari di nomine, allora saranno 50 e 50. Se invece è un numero dispari, ci sarà la differenza solo di un genere. Sono tre, due uomini e una donna o due donne e un uomo. Alla fine dell'anno faremo una valutazione e nel caso in cui non ci sia ancora parità complessiva lo faremo nell'anno successivo. Questa, secondo me, è una scelta importante che va nella direzione giusta. Noi non possiamo guardare il mondo solo con gli occhi di un genere. Credo che serva alla presenza di tutti e buona politica è davvero quella di dare risposta in questa direzione. Mi dispiace, ci sia stato anche in questo caso un po' di polemiche. Spero che tutto il Consiglio regionale possa approvare questa norma perché questa è una norma di grande civiltà. Una legge per la disciplina delle rievocazioni storiche regionali con interventi di valorizzazione del patrimonio storico culturale intangibili e delle tradizioni della cultura popolare della Toscana. Prevede non soltanto lo stanziamento di 500 mila euro all'anno che era stato previsto nel bilancio ma prevede grandi novità dal punto di vista delle modalità di erogazione. Le associazioni e le istituzioni che realizzano rievocazioni storiche potranno coprogettare con gli enti locali gli eventi le cerimonie le iniziative secondo le modalità previste dalla legge sul terzo settore. È la prima applicazione della riforma del terzo settore che abbiamo visto nelle scorsi mesi essere approvata e che adesso davvero trova realizzazione. È una legge la nostra che ha cercato di andare incontro alle esigenze delle associazioni che realizzano queste importanti rievocazioni così sentite dalla cittadinanza e che anche ha cercato di sollecitarne e sottolinearne il valore culturale. La novità della collaborazione con le scuole sia nella fase di progettazione sia dal punto di vista poi della fruizione degli eventi è uno di questi elementi e la istituzione di un osservatorio scientifico diciamo così che sorvegli sulle iniziative sul calendario che dia un contributo di consulenza è l'altra novità importante. Ecco, una governance che avrà il suo centro nella regione consiglio e giunta e nella collaborazione soprattutto con le associazioni presenti in tutto il territorio oltre che con una componente di sindaci che rappresentano le istituzioni e gli enti locali che poi sono i primi protagonisti insieme alle associazioni di questo mondo affascinante complesso e molto molto vicino ai sentimenti dei toscani e delle toscane che è quello delle rievocazioni storiche. Settembre sarà un mese caldo per il Consiglio regionale della Toscana tanti temi da trattare in aula dallo statuto passando per la legge sulle case popolari fino al piano per l'economia circolare. Innanzitutto consentitemi di ringraziare gli uffici tutti del Consiglio e della Giunta è stata una settimana intensa frutto di un grande supporto da parte degli uffici ringraziare tutti i colleghi per l'impegno e la dedizione che ci hanno messo in questi mesi difficili della pandemia. Ci aspetterà un inizio intenso pieno di temi importanti si parlerà dell'ERP si parlerà dei fondi strutturali cosa chiederemo all'Europa come potremo permettere alla Toscana di ripartire più veloce si parlerà del piano dell'economia circolare perché una regione che vuole competere deve avere la capacità di saper smaltire di saper riciclare tutto quello che produce nel proprio territorio insomma sarà un settembre caldo e poi all'ordine del giorno come sapete ci sarà la modifica dello statuto che abbiamo deciso di calendarizzare subito al rientro la Toscana per Dante la Toscana con Dante che diventa compagno di viaggio ispiratore di emozioni di pensieri di idee di gioia dal falterona al mare dalle apuane alla maremma nell'anno dedicato alla celebrazione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta la regione ha fatto sì che i versi della divina commedia raggiungessero e unissero tutti 190 i comuni coinvolti sì in questa conferenza stampa si presentano i principali eventi finanziati alla regione ma con il portale Dante Otosco noi abbiamo raccolto tutte le iniziative che enti locali associazioni culturali ambiti territoriali fanno su Dante stiamo parlando di oltre 150 grandi eventi alcuni in italiani altri addirittura in inglese visualizzati da oltre 60.000 utenti con una permanenza media sul sito di oltre 1 minuto e 48 quasi 2 minuti di tempo quindi c'è grandissima attenzione a livello nazionale e internazionale per questi eventi legati a Dante che completano il panorama di Dante diffuso su tutto il territorio della Toscana così come ci ha chiesto il Presidente nella provenienza dei vari visitatori del sito si vede che oltre agli italiani per una percentuale altissima ma ci sono anche visitatori internazionali in particolare americani e europei e gli europei sono in linea con l'attività che abbiamo fatto negli istituti italiani di cultura dove abbiamo presentato il portale di Dante Otosco e le tante iniziative quindi l'attenzione c'è per la Toscana e in particolare per la Toscana diffusa e Dante come sappiamo tutti è diffuso in tutta la Toscana e quindi 150 eventi particolarmente visti e visitati copreranno tutto l'arco del periodo da qui fino a fine anno grazie a tutti